Onorevole Fitto, quanta capitanata c'è nella vittoria del 26 maggio? C'è un contributo importante anche di questa provincia e del quale tenerne conto in un dato che mi soddisfa e mi lusinga molto dal punto di vista anche personale e in generale nella mia regione in modo particolare, in Puglia. Sono serenamente soddisfatto del fatto che tanta gente che recitava il De Profundis da tempo poi oggi si trovi con questo risultato, il che vuol dire che tra chi è abituato a fare pettegorezzi e chiacchiere e chi invece è abituato a lavorare nel confronto serio con gli elettori, prevale la seconda posizione. In Puglia dove avanza la Lega e dove la politica leccese è sempre in primo piano, c'è lei, c'è Caroppo? Avanza la Lega ma avanziamo pure noi, il risultato che abbiamo raggiunto grazie anche a questa sintesi che abbiamo messo in campo ha visto quasi triplicare il risultato dello scorso anno quindi mi sembra che in termini di crescita noi siamo assolutamente sulla strada giusta. Domenica c'è il ballottaggio a Foggia e in altre città importanti della provincia, come andrà a finire secondo lei? Io mi auguro che ci possa essere una risposta positiva per il centro-destra, abbiamo i candidati giusti per poterlo fare a partire da Franco Landella qui a Foggia, spero, penso, mi auguro che ci possa essere una vittoria, che possa essere un'opportunità per ripartire. Qualche decennio fa lei vinse le europee, si candidò alle regionali in Puglia e le vinse. Farà la stessa cosa questa volta? Sono soddisfatto di aver vinto le europee e mi fermo qui.